Ciao a tutti ragazzi siamo qui con questo nuovo video e oggi stiamo su HelloNakeboard questo è il secondo video aspettate qua c'era il parkour noi eravamo andati da HelloNakeboard andiamo piano piano e eravamo andati di qua non me l'ha salvato aspettate ecco eravamo andati di qua avete visto c'è HelloNakeboard che sta facendo la di scapparato e ora dove eravamo andati di qua non di qua eravamo andati di qua si di qua ma non abbiamo però nessun botto e scoppiamo no scoppiamo andiamo di qua andiamo no aspettate e ora andremo di qua ecco eravamo andati qua a letto io avevo spaccato qua la legna e avevamo andato qua qua c'era una cosa qua aspettate la pala la pala non la prendiamo più perché c'era una pala ecco ma qua che c'era raga e andiamo a vedere ah si qua c'era se non sbaglio si qua aspettate raga ecco qua una bella leva la chiave ok ora andremo di qua nel labirinto è quasi lungo ah non è lungo no forse dovremmo attraversare questo provo a passare davanti al quadro cosa non è un passaggio seguito no ce l'avevo provato ce l'avevo provato guarda vi stampo ah vabbè tanto era brutto qua c'è un altro labirinto qua c'è un altro ok è strano sta cosa ok qui c'è il cesso qua c'è il cesso dove si va aspettate ah ok ora andiamo di qua dobbiamo vedere tutte le camere del labirinto e poi andremo a uccidere Nick Borg noi abbiamo tre uno due tre ok abbiamo visto tutto qua ci pare che abbiamo visto tutto abbiamo la chiave la leva la leva ok 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 possiamo andare a decidere la carta dobbiamo vedere tutte che c'è qua ecco qua ci dovrebbe essere qualcosa qua c'è soltanto un letto no è mattino ok lo so tanto vedere vediamo qua che c'è ah no ok siamo tutte così troll vediamo qua ecco qua qua avevamo trovato questo qua dobbiamo forse aspettate che l'avevamo provato e io no qua che c'era delle maldette ceste bene 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 e qua delle ceste invecchiate ecco oddio c'è la tomba aspetta c'è raga apriamo la tomba aspetta facciamoci la palla raga raga c'è 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 ci facciamo una sticca una sticca e la palla eccola eccola no ecco la palla e solo quella ci rimaneva ok andiamo scaviamo scaviamo raga non è che si tratta di un picco ah sì sì è un picco saliamo voglio mettere le stesse qua e prendiamo la nostra paletta e andiamo a chiudere il nego ma c'è una stanza che ecco qua prima qua c'è il bambolo saliamo saliamo andiamo da nego saliamo verso saliamo verso le scale nostre che è un corrido in realtà ecco aspettiamo la nostra nego prendiamo qua ecco raga ecco bene ecco prendiamo intanto la nostra pala e andiamo ad uccidere il nego signor nego signor nego ciao ciao vieni qua vieni che mi dà cacci nel aspettate un attimo raga impostazioni aspettate un attimo guarda le impostazioni mi caricherà un po' e andiamo aspettate come si metteva non i trucchi come si metteva quella significa facile e come si metteva multigiocatore no come si metteva la mi schiava ma permettere che si vedeva il tutto state ragazzi in mouse stiero controller allora non mi sto portando eeeh tutte persone ora posteriore ecco dipende il gioco ecco vieni qua signor negbo vuole chiamarmi le signor negbo aspettate un attimo voglio fare una cosa dai dai uccidiamolo la tua barba è davvero bella ora è il momento dell'automort ragazzi si sente un brillo ecco come mai corri così signor snakeboard e non muo signor snakeboard prendiamo lo zombie un attimo raga prendo un attimo lo zombie bella raga l'abbiamo ucciso aspettate aspettate ragazzi aspettate ragazzi oddio raga oddio aspettate raga vedo che mi è scoppiata aspettate bene raga eccoci abbiamo mi era scoppiata la caldaia cacchio 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 guardate come si muove guardate come si muove ah intanto scambiamo qualcosa che nel villa che lui era il bambino che l'ho trovato poi ehi villico villico finita papà vieni che scambiamo qualcosa scambia e non cacchio bene allora ti uccido vieni qua vieni vabbè ragazzi per questo video è tutto ci vediamo al prossimo video ciao vieni belt supreme vieni st Christina vieni 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 vieni